Prendiamo un quarto rispetto ad un parlamentare a una scelta del governo che condivido ad affermarlo il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli all'indomani della notizia che gli stipendi degli amministratori pubblici, chi più chi meno, aumenteranno. Ghinelli dovrebbe arrivare a circa 9.000 euro al mese. Credo che il governo Draghi, aggiunge, abbia fatto una scelta opportuna e di buonsenso, che certo è un primo atto verso una rimodulazione di tutte le indennità che hanno a che fare, direttamente o indirettamente, con la politica. Della stessa idea la sua vice, Lucia Tanti. Io mi aspetto che sia un passaggio intermedio, cioè mi aspetto che sia un passaggio che porti ad un equilibrio di riconoscimento economico, per cui se chi prendeva poco qualcosa in più prendi, chi prende molto qualcosa in meno prenda. Dopodiché è una scelta nazionale, farei più politica se dicessi che non la condivido, in realtà la condivido perché questo è un lavoro che dobbiamo fare per poco tempo nella vita, ma che quando lo facciamo non è un hobby. E quindi se vogliamo evitare che questo mestiere temporaneo, che è un onore, ma che è un carico di impegno, lo facciano soltanto i ricchi per di giorno, bisogna che chi lo faccia abbia un riconoscimento adeguato. Lei diceva che se qualcuno si vorrà frugare in tasca, donare questo surplus che non è poco, perché facciamo l'esempio del sindaco, passa da 6.000 a 9.000, non è che con 6.000 ci sa un brutto tenore di vita. Quindi questi 3.000 in più potrebbe decidere di devolverli ad un ente come potrebbe essere la Caritas, il Calcite nel nostro caso, oppure potrebbero essere impegnati per le fasce più deboli della popolazione, quindi destinati proprio nel bilancio comunale. Questa è una cosa che si può fare? Questa è una cosa che si può fare, la riterrei molto strumentale, la riterrei anche scalzamente intelligente perché credo che quando si fa un lavoro si debba avere il riconoscimento per il lavoro che si fa. Io ho visto l'ultima mia busta paga che ho visto, quella dell'anno precedente, e era 2.900 netti, quindi anche i 5.100 che vedo la Lordi, poi non credo che siano 5.100, ma credo che sarà una corrispettivo. Ci sono persone che per dedicare una parte del loro tempo a questa passione, che però ci è riconoscita dai cittadini, non è che si viene qua perché ci alziamo la mattina, magari rischiano anche di perdere opportunità di lavoro. Allora, se vogliamo fare il discorso del paese delle meraviglie, utopia, utopia, secondo di quale accento vogliamo mettere, vabbè, si torna ai tempi in cui la facevano i ricchi e perdigiorno. Se vogliamo avere il diritto e il dovere di rimandarci a casa con un calcio nel sedere, qualora ce lo dovessimo meritare, è anche il caso di non essere molto strumentali e molto populisti. Ricordo che il populismo in questo paese trova nei 5 stelle la maggiore espressione, questo governo è sostenuto da una maggioranza che va anche verso i 5 stelle. Quindi mi pare di dire che sarebbe molto strumentale dicersi che vergogna, credo che la vergogna sia quando si fanno mai le cose, non quando ci viene riconosciuto il lavoro che facciamo. Insomma, questa è la posizione degli amministratori. Intanto però, per il caro Bollette, il Comune di Arezzo aderisce alla protesta di Anci, spengendo le luci alle 20 per 30 minuti. Basterà per alleviare il peso per famiglie e imprese? Sì, è una protesta simbolica, in realtà quello che tutti speriamo e che alle parole del presidente Draghi di ieri sera poi seguano i fatti, ma sono abbastanza convinta che sarà così perché il 2022 potrebbe passare alla storia per essere l'anno della ripresa. Se sarà così invece finirà per passare alla storia per essere l'anno invece della staffetta tra l'emergenza sanitaria e quella economica.